Sono soddisfattissimo della prova dei ragazzi, però questa partita si doveva aiutare perlomeno con il doppio vantaggio. Insaziabile e quasi inarrestabile l'avvio di stagione del Barletta coincide con un percorso netto o quasi. Il team allenato da Francesco Farina, dopo il pareggio all'esordio sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie, ha messo insieme sei vittorie di fila. Quattro nel girone A del campionato di eccellenza, due in Coppa Italia di Lettanti. L'ultima in ordine cronologico contro il Trinitapoli nell'andata del secondo turno della competizione. Dobbiamo essere bravi a non abbassare mai la tensione per giocare una grande partita nelle due fasi. Quindi io sono sicuro che adesso penso di recuperare al Taras e Morra almeno al 70-80% per domenica. Sono due giocatori importanti e poi ce la giocheremo una alla volta. La vittoria di Canosa è stata firmata da Pignataro al quinto gol stagionale. Farina non nasconde la soddisfazione per la prova dei suoi ma guarda anche con un pizzico di rammarico alla direzione arbitrale. C'è stato dopo tre minuti del secondo tempo un giocatore loro ammonito che doveva essere Stele. Stele ha fatto il fallo, doppia munizione deve andare fuori. Invece loro sono stati bravi, hanno buttato avanti i Venturini e quindi il 2, ma il fallo l'aveva fatto il 6. Quindi come fai a lamentarti? Io non so i colleghi più di miei, ma come fai a lamentarti dall'abito quando un rigore a noi non ce lo dà? Un'espulsione dopo tre minuti non ce la dà per un errore tecnico. Perché l'all'espulso doveva essere, l'ammonito era Stele che ha fatto il secondo fallo. Dalle immagini si vedrà benissimo. 18 gol fatti, solo tre al passivo tra campionato dove i biancorossi condividono la vetta a punteggio pieno con il Corato e Coppa. Farina evidenzia un dato in particolare, la parata di Tucci nel finale di gara contro il Trinitapoli. La prima grande parata di Tucci, ma non è una cosa che dice Francesco Farina, lo dicono tutti gli addetti ai lavori. Quindi se una squadra alla settima partita c'è il portiere che fa la prima grande parata, penso che siamo a buon punto. Testa ora alla Vigortrani, prossimo avversario domenica al San Sabino. A Canosa, Pollidori e Soci giocheranno tre partite di fila, complice anche la sfida contro i padroni di casa tra due turni. Si confida nel recupero di Monre Altares, out in Coppa. Ci sono questi piccoli infortuni che ti fanno perdere un po' di continuità, ma penso che tutte le squadre, anche perché noi soprattutto davanti siamo un po' corti. Siamo un po' corti, però sicuramente arriverà qualcuno per darci una mano.